Questa è una storia che mi sta particolarmente a cuore perché non è uscita quasi da nessuna parte, è una storia però ufficiale. Perché non è uscita questa storia nonostante io la ritengo una sorta di Romeo e Giulietta in chiave moderna, in chiave guerra fredda? Perché questa è una storia che dimostra come gli americani hanno mentito quando hanno dichiarato che Fidel Castro non ha mai fatto nulla per il suo popolo, cioè non ha mai provato a trovare l'accordo con gli americani per porre fine all'embargo. Il racconto di questa storia dimostra invece il contrario, che la possibilità c'era, gliel'aveva offerta Fidel Castro a Kennedy e Kennedy l'aveva accettata, peccato però che quell'anno era l'anno in cui Kennedy fu ucciso e dopo fu archiviato quel progetto. Quindi quando qualcuno dice sì a Cuba, è certo che con 50 anni di embargo chiunque avrebbe fatto soffrire il popolo, poteva rinunciare, poteva piegarsi, svendere la propria isola agli americani, probabilmente i cubani avrebbero vissuto meglio, questo lo abbiamo detto già all'inizio però non possiamo giudicare chi non si è voluto piegare. Però la possibilità l'aveva data e questa è una cosa che non è mai emersa, invece nella storia che vi racconto adesso è tutto molto chiaro, è anche documentato. Questa giornalista che voi vedete era la giornalista più famosa a quei tempi, Lisa Howard, era l'anchor woman dell'ABC, American Broadcasting Company, era l'unica giornalista che aveva intervistato Khrushchev, era una giornalista che stava spesso a lati dei presidenti americani, lei viene inviata a Cuba per fare un reportage contro Cuba e contro Fidel Castro. Fidel Castro la vuole incontrare, gli vuole mostrare Cuba, passano talmente tanto di quel tempo assieme che lei si innamora di Fidel Castro. Cioè due persone che non sarebbero mai dovuti incrociare nella loro vita, pena veramente la morte di entrambi, invece come succede nei romanzi shakespeariani, si innamorano l'uno dell'altro. Lei però, quello che mi piace dalle lettere che sono state desecretate e che io ho tradotto, quello che mi piace del suo approccio è che lei, pur coinvolta con Fidel Castro, non perde mai la sua lucidità e continua a dire la tua rivoluzione è fallita. La tua rivoluzione è assolutamente fallita, non stai facendo vivere bene i cubani, non stai portando a termine quelle che erano le promesse che tu avevi fatto durante la rivoluzione, però mentre prima io davo a te tutta la colpa, ora mi rendo conto che gli americani, noi, non ti abbiamo lasciato altra scelta. Cioè o ti dovevi piegare e svendere Cuba, o se volevi continuare a lottare dovevi far fare ai cubani la fine che gli hai fatto fare. Quindi io continuo a dire che tu hai fallito e che avresti dovuto agire diversamente, ma non sei più il colpevole. E anzi ti dico di più, se tu continui così finirai ucciso. Quindi io invece voglio darti una mano. Innanzitutto ti do la più grande prova che io ti possa dare di lealtà, ti lascio questa lettera in cui ti dico queste cose, perché se tu diffondi questa lettera io sono morto. Quindi fa questa lettera bellissima che inizia con il mio caro Fidel e gli racconta tutte le qualità che ha trovato in Fidel e che mai poteva immaginare. Dice però se tu mi dai la possibilità, con le entrature che ho io voglio provare ad aiutare il dialogo. Posso parlare col presidente Kennedy, col suo entourage e posso cercare di trovare un ponte di collegamento con te. Fidel Castro gliela dà l'occasione. Dice ok, porta avanti queste datative, sono d'accordo a parlare con Fidel e provare a vedere se c'è un punto d'incontro. Lei torna in America, viene convocata dalla CIA ovviamente. Queste sono delle immagini bellissime, vedete le immagini del tempo passato insieme. Qui addirittura lei con Che Guevara, lei con Kennedy, lei con Fidel Castro. Queste sono delle immagini inedite molto belle. Quello che vedete è il documento della CIA che l'autorizza, perché era stata autorizzata, a gestire i rapporti tra l'amministrazione americana e Fidel Castro. Addirittura utilizzano anche il suo telefono e la sua casa. Questa invece che vedete è la lettera che lei scrive, tradotta nel libro, sulla carta intestata dell'hotel Riviera, dove i due erano stati insieme per più notti. Vedete del 63, quindi l'anno coincide. Questa è la lettera e quello è il foglio della CIA. Lei comincia quindi questa interlocuzione per provare a far finire l'embargo a Cuba e dare una chance a Fidel Castro quando Kennedy viene ucciso. Quando Kennedy viene ucciso, Fidel Castro la convoca e gli dice Cara Lisa, da questo momento in poi vedrai che io e te non potremmo avere più rapporti, altrimenti siamo tutti e due in pericolo. Tant'è vero che lei riceve una nuova comunicazione in cui le intimano di chiudere qualsiasi rapporto con Fidel Castro. Tutti i rapporti, la nuova amministrazione non vuole avere questo dialogo. Non potevano volerlo perché ovviamente dovevano continuare a massacrare quel popolo per dare la dimostrazione che colpirne uno per educarne tanti, che chi si era opposto all'imperialismo non poteva poi mai arrivare a trovare un accordo. Cosa che invece Kennedy voleva fare. Lei invece Testarda che cosa fa? Continua queste trattative, addirittura quando c'è lo storico discorso di Che Guevara all'ONU a New York, lei la sera ospita Che Guevara in casa e gli fa incontrare tante persone importanti americane e anche tanti membri del congresso che invece erano d'accordo a proseguire quelle trattative. Il tutto senza l'autorizzazione della CIA, che ovviamente si infuriano. Lisa Howard l'ho chiamata la maradona del giornalismo perché Lisa Howard come maradona viene squalificata, cioè viene licenziata. Non riesce più a trovare posto nei media mainstream e poi verrà trovata morta nel garage di casa per un suicidio con delle pillole il giorno della festa dell'indipendenza, con l'indipendenza che evidentemente a lei non hanno concesso. Quindi